La particolarità di questo lavoro è che non ci ha mai affaticato, ci ha sempre soltanto appassionato e non ci è mai sembrato un lavoro e non ci sembra neanche davvero un film, ci sembra una cosa che abbiamo fatto, una cosa che è accaduta, perché è così, è una cosa che è accaduta, tante persone insieme l'hanno fatta accadere, tante persone si sono prestate per che accadesse, io l'ho immaginata un po' all'inizio e poi ho solo fatto una cosa semplice, ho chiamato le persone che mi sembrava che la sapessero e potessero realizzare e la prima persona che ho chiamato, che non può mai, perché ha tantissimo lavoro da fare sempre, è stata Esmeralda. È stato un lavoro collettivo, è stato un lavoro di tutti, quindi noi siamo state felici che tutti hanno messo del loro, è stato un lavoro quasi psicoterapeutico, io lo dico sempre perché abbiamo utilizzato filmini di famiglia, filmini nostri, filmini personali, per cui ci abbiamo messo tutti del nostro per cercare di trovare un filo anche così, dei nostri pensieri originari, di quando eravamo piccoli e tutto il resto, per cui spero che vi piaccia.